Insomma, io abitavo ad Augusta, però per forza di cosa sono dovuto andare a scuola a Catania perché a Augusta me le ero giocate tutte, quelle che c'erano mi erano rimasto a Catania e poi sarei andato a Palermo, ma a Catania ho fatto solo un anno, a Luco Foscolo e mi bocciarono magari l'anno. Ce ne vuole? Un esame di Stato, feci solo gli orali. Hai approfondito la materia? No, scusa, feci solo gli scritti. Non ti hanno ammesso gli orali? No, gli orali ha ammesso, ma fu veramente onesto con me stesso. Signori, con la maglietta, mi ricordo, Miami Beach, Florida. Dissi, signore, che volete che vi dica? Non ho studiato, si vede, purtroppo ve salutai, devo andare. E dove ti sei diplomato?